Salve a tutti, benvenuti da Sarnovar e da Sardinia Post. Abbiamo un incontro di politica, chiamando il suo burde e l'usufra e il suo privilegio e il suo consiglio regionale. Puoi scrivere quanti sono il suo consiglio e il suo giornale hanno avuto un montone in ghiere. Cominciamo proprio da questa spensione. Sono 37,7 e il suo amorevole italiane e 11 anni il suo consiglio paga quasi 6 milioni di euro. E' in realtà il nostro canale è il suo cittadino. Se i muschi stionanti non devono pagare sicurezza, ma devono pagare un'amore, chiamando il suo giovane. Comenta Claudio Lombardo, che ha 41 anni, 3 e 12 mesi più di 1 milioni di euro. Deve spaventare e vincere a posare liquidazioni. Mario Floris può moderare, con il suo consiglio dei 30 milioni di euro, ha versato il suo contributo per 270 milioni di euro. Ma il suo consiglio ha dato più di 80 milioni di euro. E' baffinza la gente che intri su un consiglio di ribaleta ancora, commenta Giorgio Laspisa, che dà dei stipendi 1 e vincere la sua vincione e Bidu che ha fatto il suo amorevole. Una cosa da non credere, ma sarebbe il suo amorevole. Lezze che il suo amorevole si sono fatti in suo sannoso. In pippandesine della sua riforma fatta dal Savornero e da Mario Monti. Per l'istante, un metà al Sardoso non riesce a tirare a Dananti in grazie ad Eus. Secondo il blog Open Data Bassa Romagna, che ha fatto i sconti in Buzacca su Sardoso, in Serra Nostra, un montonizzante non arriva alle ore 20 milioni di euro per anno. Un numero boccato delle denunze sui redditori presentate in su due amici e due. Questi più poveri sono i sarbi d'Arminores, commenta Monteleone Roccadoria e Ionani. Solo in Castello si lavassano mezzo, in occhio il cittadino tenendo l'entrata per 20,5 euro per 11 anni. E stando sempre in conto dei zenti che si lavassano male, la regione è ad esclusire a Simps su 52 milioni di euro che si veniva a pagare la cassa integrazione a più di 7,5 euro per anno. Il costo di nari non ha da essere considerato intorno al suo patto di stabilità, la regola che non ha fatto di spendere tutti i francesi che teneremo in cassa, può non fare più ormai sui debiti del Stato. A donzi di buono conto, la regione tiene finita a scarchiva in San Mentu. La Corte dei Conti ha bozzato su SISAR, Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale, che rifiuta solo in su due amici e sette e che vince dai gommi costato quasi 40 milioni di euro. Il suo sistema, che deve collegare con il suo scompiuto, la regione e il suo SASL, del tutto il Sardegna, per risparmiare i tempi e i dinari, vale pagare nulla. Finse dai gommi, ma ci sono i soldi che devono fare il suo sistema, Engineering S.P.A. e Telecom Italia S.P.A. Entramo con un incontro di scuola. La Sardegna è la regione della regione più giovane che la lasciano prima del tempo, su 36 pochetti, in tutto il canale del resto dell'Italia, e la media del 27 pochetti. Il riformatore sardi, Pier Paolo Vargi, ha dimandato l'assessore regionale della cultura, Claudia Firino, di presentare la Commissione di Cultura della Camera, può questionare di questo problema, ma non lo sa bene. E saranno con un sarnofar di cultura, assicché i monumenti aperti, le manifestazioni che dai 18 anni hanno dato la possibilità a chi è chiede, pochino per i fini di chiedere, dei bie più di chi mi chiede, si intrasse a sprendere delle sarte più belle che chiamiamo questa terra nostra. Questo sapa di questa domenica ha esso aperto sul luogo più bello del castello, convento sul Museo Nazionale del Sanfiteatro Romano, Pomo dei Narre, e del Bosso, convento sul Comvento del Carmelitano e il suo fortissimo della Roma la Spina. Se volete inserire tutto sui monumenti aperti in questa città, potete entrare in internet in su sito www.monumentiaperti.com E poi abbiamo finito, e noi vediamo la seconda di chi è entrata. Grazie a tutti!